si potrebbe parlare delle opere degli ultimi dieci anni di giuseppe santomaso senza evocare alcun passato senza ancorare queste opere impreviste e intatte a qualche momento della sua memorabile vita artistica tra il 1980 e il 1990 santomaso è diverso da tutti e da se stesso si può davvero dire che le ultime 240 opere questo è il numero dei quadri su tela dipinti negli ultimi dieci anni appartengano piuttosto al futuro nella pittura contemporanea per la quale credo che rappresentino un fondamentale e inausoribile giacimento creativo del resto è proprio questo che ci si aspetta dal maestro di ogni epoca la capacità di trasfondere nelle proprie opere una potenza di senso e di forma in grado di trascendere il presente al quale appartengono così è sempre stato dall'arte antica sino ad oggi tuttavia è possibile trovare una deriva di fondo nella ricerca di santomaso mai abbandonata sin dall'inizio alla luce della quale riconoscere la maturità e la fedeltà di un artista alla propria ricerca nel corso dei decenni in questo senso è bene sapere che già dal secondo dopoguerra è un tenace impegno esistenziale a fare da guida alla ricerca di santomaso un impegno coltivato sin dagli anni della nuova secessione artistica italiana di cui l'artista fu nel 46 uno dei promotori e nel manifesto di quel movimento che diventerà il fronte nuovo delle arti si legge questa importante affermazione avvicinare a una necessità etica e morale le singolari affermazioni nel mondo delle immagini e le loro osservazioni assommandole come atti di vita è proprio questa dimensione etica legando le immagini dell'arte agli atti di vita il compito che il maestro non disattenderà per tutta la sua esistenza ora quando alla metà degli anni 70 santomaso è un artista più che affermato alle spalle il merito riconosciuto di essere stato uno tra gli artisti che hanno aperto le porte all'internazionalità dell'arte italiana dopo la radicale chiusura del ventennio fascista questa sua attiva partecipazione negli eventi culturali che attraversavano l'europa avviene sino al chiudersi dell'ultima grande stagione dell'informale europeo alla metà degli anni 60 quando con un personalissimo lirismo santomaso dipinge opere indimenticabili al tardo informale europeo che stenta a chiudersi santomaso sente di dover reagire sperimentando nuove vie per la propria ricerca è così che in questi anni nascono opere di una profonda rarefazione ed è proprio in questo momento che l'artista progetta il suo ritorno a venezia e non si tratta ben inteso di un ritorno locale l'artista ha sempre abitato a venezia ma di un ritorno culturale verso ciò che venezia ha rappresentato nella storia la potenza di espandersi di uscire di sé di portare se stessa altrove per poi ritornare diversa mescolata e arricchita dalle esperienze dai prodotti di culture lontane questa è la potenza che santomaso cerca per le sue opere questa capacità di espandersi per farla divenire artisticamente affine a quella virtù greca sorella dell'arte di vivere nel 1977 santomaso dipinge il breve ciclo delle lettere al palladio che possono essere considerate un silenzioso preludio all'ultimo grande periodo l'artista stesso scriverà per me palladio rappresenta la tradizione in evoluzione ma che cosa significa santomaso sente che è proprio venezia il luogo adatto per raccogliere la tradizione e innestarla nell'evoluzione in quel divenire in cui tutti siamo immersi per questo invoca palladio attraverso la forma silente e raccolta in ascolto voglio dire della lettera chiusa la lettera appunto al palladio l'ascolto e l'osservazione sono i luoghi privilegiati dell'artista che si prepara all'impresa della pittura ecco allora le interminabili passeggiate veneziane di santomaso in cui alla memoria si mescolano le luci le nebbie i flessi i piani gli sfondi gli scorci i muri salsi di intonaci scrostati gli archigotici e le colonne e ancora le linee le forme i timbri usciti all'aria dalla sterminata pittura che venezia contiene bellini carpaccio giorgione tiziano veronese tiepolo e quest'indefinita ineffabile esperienza visibile a divenire per l'artista il luogo da cui estrarre un modo di vivere una presa diretta sulla realtà che avrà nelle sue opere l'esempio emozionale ed etico da lasciare agli uomini credo che l'ultimo grande periodo di santomaso sorga su queste indelebili premesse l'artista ha in più e in più occasioni cercato di formularle le mie riflessioni mi hanno sempre condotto a esaminare l'arte in rapporto alle sue vicende esistenziali l'arte se vista solo come manifestazione dell'intelligenza si compie nella ricerca di un determinato linguaggio ma non giunge alla sua pienezza e non alimenta quella spinta volta alla crescita interiore dell'uomo questa presa sulla realtà passa senz'altro attraverso una percezione a un tempo visibile e tattile credo anzi che in queste opere si possa parlare concretamente di tattilità del visibile l'esperienza della luce radente sulle discontinuità di una superficie è infatti forse un'esperienza tattile prima che visibile seppure percepita attraverso la vista ecco allora i muri scrostati dalla salsedine dove però i muri sono scomparsi per lasciare spazio a un'indefinita rugosità scolpita dalla luce prima ad essere afferrata dallo sguardo questa esperienza divenuta creativa entra nella memoria narrativa di santo maso come elemento analogico da disporre con la tecnica del collage sui suoi nuovi piani spazializzati e sono convinto che sia proprio l'ossimoro di piano spazializzato ad evidenziare in questa pittura una straordinaria originalità i brani di sorda rugosità morale apparentemente antiprospettici sono in realtà i luoghi che stabilizzano le dimensioni di una radicale spazializzazione nell'alveo di colori luce colori aria già divenuti colori spazio tutto questo per santo maso deve accadere in un assoluto e coerente distanza dal simbolico e dal raffigurativo l'artista affermava esplicitamente che quando riconosceva nel suo lavoro elementi che rimandassero direttamente al visibile dal quale provenivano si affrettava ad eliminarli questa necessità di togliere il visibile riconoscibile è un togliere la propria esistenza personale l'esperienza che è dell'uomo prima di essere dell'artista santo maso sapeva che un artista nasce quando l'esperienza individuale muore per lasciare il posto a quella collettiva universale per questo il maestro mette persino una distanza tra sé l'opera che dipinge approfondendo la sua tecnica inedita del setaccio con cui fa cadere direttamente i pigmenti sulla tela preparata con collanti ecco allora apparire il colore luce aria spazio in cui santo maso può comporre le sue elaborazioni del visibile con una sensibilità fortemente musicale volta ad agglutinare in ogni blocco timbrico un'esperienza emozionale spesso inserita in un decorso narrativo tutto il visibile reale è compreso in queste opere vi risuona eppure tace come in una presenza trasfigurata l'artista elabora una nuova realtà ma non per opporla la realtà quotidiana piuttosto per creare un nuovo modo di sentire destinato a renderlo capace di vivere in modo diverso ecco quella necessità etica ecco quegli atti di vita che santo maso porta con sede ai tempi del fronte nuovo delle arti ecco una costante di continuità poetica che attraversa mezzo secolo della sua pittura compito dell'artista è dunque proprio quello di creare modi di vivere che divengano la realtà stessa credo che sia questo il motivo per cui santo maso ha sempre rifiutato la definizione di astrazione per la propria ricerca l'artista senza discriminazioni accoglieva tutte le suggestioni che la realtà gli forniva per elaborarle in una visione inedita che compendiasse gli atti di vita e le emozioni che li rendono possibili questo è l'universale verso il quale tendeva santo maso in un orizzonte così ampio diviene davvero riduttiva ogni lettura che veda nell'ultimo grande ciclo solo un'immagine a venezia la venezia itica itica è luogo del ritorno dove santo maso mero non pulisse cerca e trova i segni per la ripartenza per la creazione poetica di un epos visibile la presa diretta sulla realtà passa attraverso la trasposizione formale ed evocativa di un modo di esistere che si attua interamente nella ricerca poetica è un'immagine a venezia